Da oltre 20 anni, Avana è dal fianco di Microsoft nel processo di digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione. Come partner leader dei servizi digitali innovativi e cloud, disponiamo della più vasta comunità a livello mondiale di competenze Microsoft sull'intero portfoglio di soluzioni e vantiamo esperienze in tutti i settori di mercato. Siamo convinti che lo sviluppo della regione data center italiana è una leva importante per la trasformazione digitale del paese. Il nostro approccio, che punta all'innovazione sostenibile e a generare valore per i clienti, ci pone in una posizione unica per aiutare le organizzazioni a crescere e a vincere le sfide più importanti.